La tanto attesa centralina mobile per la rilevazione della qualità dell'aria in alcuni punti importanti della città di Andria è stata posizionata in piazza Catuma e comincerà a funzionare regolarmente per circa un mese a partire dal lunedì prossimo. L'ARPA Puglia, su richiesta dell'assessorato all'ambiente del comune di Andria, ha deciso di partire dalla piazza centrale della città per raccogliere i dati dell'aria proveniente in particolare da via Bovio, strada altamente trafficata. Per circa un mese le rilevazioni nella piazza, poi, come anticipa l'assessore all'ambiente Antonio Mastrodonato, lo spostamento. Sì, partiremo dalla settimana prossima con i rilievi degli agenti inquinanti esistenti nell'aria. L'abbiamo posizionata qui perché il primo punto di rilievo è via Bovio. I tecnici dell'ARPA ci hanno detto che era sconsigliabile metterla in via Bovio perché avremmo avuto una concentrazione elevata di gas di scarico e quindi un rilievo non veritero relativamente a quello che è il reale stato dell'aria in questa zona e quindi l'abbiamo posizionata qua. Poi verrà spostata su via Bari dove faremo un altro monitoraggio e successivamente in via Leistria. La media temporale sarà di un mese per ogni rilievo. Fermo restando che se arrivi la richiesta di qualche altro comune loro dovranno spostarsi su qualche altro comune e poi comunque tornare nel comune di Andrea. Quanto è importante in realtà poi cercare sull'intera città di avere comunque un monitoraggio costante dell'aria? Beh, è importante perché quello che andremo a fare chiaramente sarà un monitoraggio relativo solo a un periodo ben limitato e definito di circa un mese. Tuttavia nel bilancio che si andrà ad approvare è stata appostata una cifra per l'acquisto della famosa centralina mobile che ci consentirà maggior flessibilità di rilievo degli agenti inquinanti nell'atmosfera per periodi di tempi ben più lunghi rispetto a questi.